Ciao a tutti ed eccomi qua, il mitomo, ho ricevuto la foto del giorno, la mia foto del giorno, questa mia foto è stata salvata nella sezione ricevi, insomma quelle cuori, quelle inizio, la missione completata, ricevi 5 commenti, alle 2 risposte in un giorno, alle, vai, ricevi 5 cuori, e vai, allora vediamo un po' qua, cosa c'è, il regalo del giorno, per aver fatto l'accesso giornaliero, sono un biglietto, meno male mi danno i biglietti perché ero veramente rimasta a secco, uno è meglio che niente, però, non sono molti, I biglietti se ne vanno via con i mini giochi come se non ci fosse un domani, andiamo un attimino, allora come sempre non c'è nessuno nella mia stanza, allora andiamo a vedere un po' le vostre risposte, ciao Ciao Quando gli ho chiesto quale, secondo lui, fosse il mio cibo preferito, sai cosa mi ha, risposto Gabel, le torte o la pizza Bella, la pizza, la pizza, allora rispondiamo così ci prendiamo dei punti Pizza, vai, vai E 10, sì, vai, ok, torniamo indietro E ancora un'altra domanda Ma grazie, molto gentile, rispondo anche a questa domanda, sono importanti le risposte perché ti danno quei punti importanti per far salire la propria cassa E' un po' diversi giorni che non compro, sto cercando di raccimolare i soldini, oh vediamo chi è, chi mi fa la domanda, ma chi è? Ho questo mattina quale celebrità assomiglio, a parire suo, a strattossina Sì, effettivamente, che ce l'ho, eh Facciamo una risata E via, altri 10 punti presi Ok, ho un'altra, interrompi Allora, qual è il tuo programma televisivo preferito degli ultimi tempi? Ma come, non te l'avevo già detto Infatti Ok, rimani questo, più tardi, vai Poi mi racconterai tutto Ok, vai Ehm Prendiamo indietro Andiamo a vedere un po' di, che cosa c'è al negozio Vediamo Allora, ho la mia super fair panness Che sono riuscita ad acquistare gli altri con i punti fatti mediante i giochi Giochi, nel senso, no, più che altro, mediante le risposte e tutto Vediamo che cosa c'è oggi Da acquistare Mmm, ci sono le ali Non c'è nulla di che le golli Sì, forse questa gonnellina può, però No E anche oggi non acquisto niente Torniamo indietro Però mi vado a cambiare L'oggetto In quanto Devo fare, eh Ah, vi volevo dire Prima di cambiare l'oggetto Che è cambiato Ehm, un minigioco Cioè, no, sono gli stessi minigiochi Però è cambiato Ehm, i premi E c'è moda fresca di stagione Paradiso fruttato Sono arrivati i labbigliamenti Dedicati alla frutta Ole, oltre a quelli ninja Io mi fermo Anche perché Come ho detto Ho pochi Ehm, diciamo Uno solo Ehm Dei biglietti per giocare Vediamo un attimino Ehm, cosa Volevo fare Ah, guarda roba Sì, sono un attimo Pezza Stratoxina Oh, ma è possibile Che quando registro Non vieni mai Sono in una stanza Cambiamo Ehm, metto I pantaloni A stampa arabesca Ehm, ok Vai Così, sono in tuta E vai Cambia completo Una volta al giorno Fresa Vuoi scattare la mia foto? Vai Genera tu A caso Vai 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 mi tomo Vai Bella Sì, sì, sì Vai Perfetto Guardala Come Cosa faccio? Saltello Non lo so Faccio la passo di marcia Non lo so Quella cosa lì Vai Ok, fine Torniamo indietro Su Allora Quasi quasi Vado a vedere Le mie risposte Sì E vediamo un po' Ah, ok Prendiamo questa Qual è il tuo modo Di dire preferito? Indovinate un po' Chautz Ok Andiamo a vedere le vostre risposte Sentiamo un po' parlare I vostri mi Vediamo Ok Ok, via Ti avrebbe mai detto Benissimo Ok Vediamo un'altra risposta Ok Qual è il tuo odore preferito? Il mio è il basilico Odore Io l'avevo inteso Come odori Quelli che si usano in cucina Le spezie si usano in cucina Meglio il rosmarino A me la pizza con i gamberetti E con le cozze Ma facevano schifo entrambi Non so perché me l'ho letto basilisco Mi sembrava strano Che ti piacesse L'odore dei serpenti Pizza L'odore? Ah, della pizza Sì, sì Ok Dai, primo Andiamo a vedere il primo Della lista Di questa domanda E vediamo un po' L'odore Facciamo gli qualche domanda Ma no, una sola E vediamo Ah, l'odore Mi aveva fatto Secondo te Qual è il cipro Il ciprofio Di strato Sì, una pizza bianca Grande L'odore Ci avevi azzeccato Ah, scipicchia C'è il dazio Ammappate C'è il dazio Nella stanza L'odore Una novità Il mio atleta preferito Atleta Oio Il truff Arrampita sugli alberi Ho sbagliato Ho premuto Dai, un'altra Un'altra risposta Per cui l'ho premuto Vuoi sapere qual è stato Il mio ultimo acquisto Pokémon Luna Ah, lì Dai Un'altra risposta Che prendo altri cinque Lascia che ti dica Lo sport in cui sono più bravo Ho delle abilità Molto abili Sport solo per abili Cioè il rugby Lui gioca al rugby E vai Ecco a cosa servono I caramelle Bene Interrompiamo E in quale sport Sei particolarmente abile E ma Dovina un po' Indovina un po' Karate E vai Anche qui ci vogliono Anni e anni di esercizio Come in tutti gli sport Sì, sì Ma grazie, grazie Benissimo Allora torniamo Nel mio appartamento Vediamo Un po' Vai Ok Ok Premivo giù Invece Devo premere su Home Allora Così Per evitare Ulteriori domande Io le visite Le faccio a caso Se non mi viene Nessun personaggio A trovare Nel negozio Nel mio appartamento Faccio una visita a caso Delle domande Che vado a leggere Quindi non mi chiedete Visita a me Visita a me Visita a me Perché è a casuale Bene Quasi quasi Sai che faccio Se Proviamo Proviamo Ma se Proviamo Dai Volevo Non giocarci Ma è più forte Di me Non volevo Prendere vestiti Di brutta Ma è più forte Di me Devo prendere Un vestito nuovo Dai Sganciamo i miei assieme Questo è difficile Questo è proprio È difficile Mi va bene anche la corona E l'ultimo Biglietto Quello che avevo vinto Stamani Me lo gioco Così Mamma mia Non lo so Non ho idea Di come potermelo giocare No così Proviamo così Fermati 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 lì Almeno lì Dai Ho vinto Le scarpe Ma che Bellezza Mi portate sempre fortuna Ok Ciao ciao Ho vinto le scarpe Ananas Mamma mia Nuove scarpe E via Ok Dopo questa vittoria A lei Alla grande Io vi saluto Spero vi sia piaciuto il video Quando mettete un mi piace Commentate